Sarà una Lega Pro avvincente, quella nel girone C, con moltissime squadre pronte ad essere protagoniste. Se Avellino, Catania, Crotone e Benevento partono attualmente con i favori del pronostico, neanche le matricole terribili scherzano. Il Catania ha ufficializzato Curado, difensore che è passato per qualche settimana anche ad Avellino, prima della mancata iscrizione in Serie B. Il centrale, argentino 28 anni, appena svincolatoci dal Perugia e forte in una talone presenze e due gol in Serie B, ha raggiunto l'accordo con i siciliani. Il Ceregnola pesca il Jolly Tentardini, dal mercato degli svincolati, mentre il potenza ingaggia Andrea Ristov, difensore classe 99, che arriva in prestito dal Cosenza. In carriera ha maturato 100 presenze nella Serie A bulgara, 13 in B e 10 in Lega Pro. Manuel Marzupio è un nuovo difensore del Foggia, nel girone C ha giocato già nell'Havese, protagonista anche con la maglia della Protesto, i satanelli lo hanno preso a titolo definitivo. Alessandro Provenzano lascia il Taranto di Capuano, il 32enne centrocampista nelle scorse ore, di comune accordo con il club ionico, ha abbandonato il ritiro. Altro botto di mercato per il Monterosi, a titolo definitivo con contratto triennale, arriva il giovane talento Andrea Silipo, classe 2001, proviene dal Palermo. Con la Juve Stabia nel campionato di 3C, nella stagione 22-23, ha realizzato ben 5 reti e fornito 3 assist decisivi.